Buongiorno, dimmi Peppe, Michi, secondo me mia moglie mi tradisce e devo trovare un rimedio, una soluzione per capire se mi tradisce quando resta a casa. Peppe, è semplice, ce l'ho io il rimedio, ho un cane che tu te lo porti a casa, risponde pure al telefono, si abbaglia una volta e sì, si abbaglia due volte e no. Veramente? Me lo puoi portare? Porta, me lo porta, anzi fai un'accusa, vai a casa mia, dì a mia moglie, dì, no questo è il cane, me lo puoi mantenere, dì che tu, me lo ha detto Peppe, me lo puoi mantenere e poi più tardi me lo vengo a prendere, ok? Beh, lo vado a portare. Pronto? Baobino? Ciao Peppe sono, ascolta mia moglie sta a casa? Ma sta sola? Sta con un'amica? Con mia suocera? Sta il fratello? Una donna? Un uomo? Stanno cucina? Stanno in camera da letto? E che stanno facendo?